eccoci pronti per la nostra puntata mensile di no haber tutte le voci della formazione naturalmente un format di le fonti tv in collaborazione con rebis e vi lascio dare un'occhiata ancora per un istante al titolo che vedete in sovrimpressione che è il tema portante di questo nostro appuntamento perché voglio attendere ancora un istante a spiegarvi di cosa si tratta per introdurre manuel minati rebis che è con noi per l'apertura di questa nuova puntata manuel bentrovato buongiorno e bentrovata e peraltro devo dire che il tema che andiamo a affrontare oggi che verrà sviscerato in tanti aspetti sotto tanti aspetti si collega moltissimo alle puntate precedenti ricordiamo ai nostri amici che insomma c'è un filo conduttore che lega tutti questi appuntamenti tutte le voci della formazione ma visto che di formazione si parla sempre con un occhio sempre più vigile cercando sempre di trovare delle sfaccettature diverse assolutamente poi vediamo il collegamento perché mi piace fare questo giochetto che c'è con la puntata precedente il titolo è molto accattivante bisogna dire la verità perché noi parliamo ovviamente di business non a caso si parla di manager gamification manageriale quando giocare però non è un gioco anche perché parliamo di lavoro certo raccontiamo di cosa si tratta perché io sono andata a cercare qualche informazione gamification esattamente diciamo che ho scoperto subito e poi do la parola a te manuel che sempre più big corporation si come dire portano avanti i processi di formazione per i manager che includano anche altri aspetti che solitamente non vengono considerati quali sono ma allora partiamo dal presupposto che la ricerca della formazione è quella di trovare sempre strumenti che vadano a sollecitare aree della nostra capacità di apprendere diverse quindi la formazione classica quella che abbiamo sempre identificato come l'aula la formazione online la gamification il team building e quant'altro è un modo per sollecitare parti del nostro processo cognitivo che normalmente non avremmo pensato di utilizzare storicamente e poi se vuoi perché la nostra vita ci insegna che giocando si impara noi da bambini nasciamo e impariamo molte delle cose che da grandi viviamo giocando certo simulando simuliamo la nostra attività professionale simuliamo la nostra attività relazionale lo facciamo con le bambole o con i soldatini lo facciamo con le macchinine lo facciamo con i videogiochi però comunque impariamo a relazionarci anche con le altre persone attraverso il gioco e quindi perché non continuare a farlo anche quando siamo dei manager a cui viene chiesto di essere performanti allo stesso tempo essere empatici allo stesso tempo essere capaci di motivare le persone anche perché giocando si crea proprio confronto no ci si mette a confronto e parlato su di relazione quindi automaticamente attraverso il confronto si impara insomma è un assunto abbastanza abbastanza semplice poi quando parliamo di figure manageriali solitamente sono figure che sono notoriamente sottoposte anche a stress per il raggiungimento di obiettivi e quindi attraverso questo tipo di formazione diciamo che si può andare verso un ingaggio più impattante cioè ci può essere un riscontro una risposta da parte dei manager sicuramente più utile anche per il raggiungimento degli obiettivi soprattutto nel momento in cui si deve cercare di mantenere alto il coinvolgimento dei manager nei percorsi formativi la grande difficoltà è proprio quella di mantenere alto il coinvolgimento assolutamente sì dove la motivazione insomma la fa da padrone io ovviamente sto un po' azzardando insieme anche ai nostri telespettatori perché questi momenti queste puntate di No Habber devono servire proprio di formazione da formazione anche per me e non a caso interpelliamo sempre chi si occupa dei vari temi che poi affrontiamo e allora subito con te quindi resta qui contrariamente a quello che succede di solito perché voglio subito salutare e ringrazio per essere qui con noi Walter Lindo direttore di Fondir grazie per essere qui allora è uno dei principali fondi per la formazione un fondo paritetico interprofessionale riconosciuto dal ministero del lavoro che finanzia e promuove la formazione continua dei dirigenti ho detto bene vuole aggiungere qualcos'altro perfetto ha studiato ha studiato bene siamo un fondo che finanzia appunto la formazione dei dirigenti quindi noi non proponiamo dei corsi di formazione questo lasciamo che siano gli altri a farlo delle strutture esperte che hanno le competenze noi finanziamo i piani presentati dalle aziende sulla base dei loro fabbisogni certo certo assolutamente sì allora le faccio subito una domanda molto diretta però che ci inserisce nella nella discussione poi manuela anche tu sentiti libero di interpellare Walter Lindo gamification perché se ne parla poco insomma rispetto a quelle che sono noi abbiamo cercato di metterne sul tavolo qualcuno le potenzialità per le aziende quindi per i manager è così se ne parla poco forse questa deve essere la prima domanda nel senso che dal nostro osservatorio stiamo sempre più specie dopo questo periodo un po particolare no stiamo sempre più finanziando delle modalità di formazione che sono alternative ovviamente alla formazione d'aula in questo periodo ovviamente abbiamo finanziato molto fa molta fad in passato per i manager parlo dei dirigenti perché noi finanziamo esclusivamente la formazione di dirigenti abbiamo finanziato molta formazione esperienziale oggi si sta facendo strada anche la gamification che è una modalità formativa che mette insieme quelle che sono le tematiche principalmente richieste dai dirigenti ossia change management e business agility la questa modalità formativa è molto molto utile ed efficace perché mette in ballo le capacità dei dirigenti di confrontarsi con i propri colleghi e quindi di superare insieme degli ostacoli consideriamo che fondir esclusivamente si rivolge ai dirigenti quindi le nostre aule sono forma meglio le aule che finanziamo sono formate esclusivamente da dirigenti dirigenti delle stesse aziende quindi gruppi di gruppi grossi gruppi in particolare che puntano su questa tipologia formativa e quindi mettono in gioco appunto gli stessi dirigenti oppure sono dirigenti che provengono da realtà diverse che si confrontano e che insieme traggono stimoli per per superare gli ostacoli giocare significa vincere vincere significa raggiungere un risultato e quindi collaborare e questo è quello che crea squadra e che sta alla base di questa tipologia formativa che ritengo per per i dirigenti in particolare ma per i manager in generale molto molto efficace ecco sì il discorso della competizione non l'avevamo ancora considerata abbiamo parlato di motivazione peraltro anche valter lindo ha ribadito l'importanza del confronto quando si gioca però la competizione manuel che spesso viene considerata una cosa negativa invece no cioè permette ancora di più di modo assolutamente leale e competitivo ambizioso è l'ambizione lavorativa di arrivare prima magari a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati credo che abbia detto una cosa molto puntuale una competizione collaborativa ormai diventa sempre più difficile vincere da soli ma si vince in squadra che può essere la squadra di manager ma può essere un manager con i suoi collaboratori possono essere aziende diverse che collaborano su progetti complessi perché credo che questo sia un altro elemento quando il dottor lindo parlava delle esperienze chiamiamole interaziendali ormai il confronto anche tra figure manageriali di aziende differenti anche di settori differenti è un valore aggiunto se poi lo fai sotto forma di gaming diventa anche divertente certo assolutamente sì e quindi ci può dare lei ha detto tramite valter lindo tramite il vostro osservatorio invece notate che effettivamente ci si affida sempre di più a forme di formazione alternative e tra queste c'è anche appunto la gamification e come avvie ci può dare qualche cenno insomma per capire effettivamente su cosa si punta maggiormente quando si parla di formazione da questo punto di vista le tipologie che finanziamo sono davvero davvero le più varie intanto abbiamo due due modalità per per finanziare questa questa formazione quindi ricordo fondire un fondo che mette a disposizione delle aziende iscritte delle risorse quindi un'azienda può chiedere per i propri dipendenti di partecipare ad un percorso che si trova sulla nostra bacheca percorso alimentato da corsi tra cui ci sono anche questi della gamification assolutamente proposti da strutture importanti oppure presentare proprio un piano sulle sulla base delle proprie esigenze la simulazione il gioco per esempio raggiungere insieme di obiettivo penso una volta abbiamo finanziato un corso era fatto a londra dove si giocava con i soldatini e dove si doveva raggiungere un obiettivo però step by step quindi risolvendo dapprima dei delle criticità che venivano fuori dalle da domande da 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 percorsi che erano stati costruiti successivamente si andava ad affrontare insieme un altro percorso ma questo anche prima contro una squadra poi con la stessa squadra insieme e quindi più situazioni era era un percorso molto molto stimolante noi l'abbiamo approfondito perché è diventato una best pratics di un percorso che ha finanziato fondi però ecco non c'è una un'unica modalità magari sono gli stessi gli stessi docenti sono soprattutto coccia quindi un'esperienza molto molto pesante che mettono in campo delle esperienze che delle dei giochi che poi cambiano di volta in volta quindi diciamo non c'è una una modalità un sistema unico ma davvero sono vari dipende anche da analisi accade in azienda certo dipende l'esperienza dell'azienda è portata nel gioco certo poi dipende dal tipo di azienda dal tipo di dipendenti ma manager collaboratori insomma che anche da quelli competenze si vogliono sviluppare attraverso questa modalità formativa perché comunque l'obiettivo è sempre quello l'obiettivo è sviluppare la competenza si valter stava dicendo qualcosa forse dicevo quello che accade nelle nei nostri percorsi è sempre un confronto fra dirigenti quindi è un livello molto molto alto qui purtroppo anche se sarebbe molto interessante in questo bisognerebbe forse parlare anche con lampa una collaborazione fra la formazione dei dipendenti dei dirigenti purtroppo dico purtroppo perché so che l'efficacia sarebbe molto interessante anche nel mettere in confronto i dirigenti con i propri dipendenti o propri quadri no qui abbiamo proprio un confronto fra i top manager in particolare e quindi trovare insieme delle soluzioni magari che riguardano anche lo stesso settore nel quale le aziende operano ecco beh però poi allora vedi perché manuele ho aperto la puntata dicendo che tutte le puntate di no haber sono collegate perché noi abbiamo cominciato a parlare di team no di squadra quello che dicevi tu però nello stesso tempo anche di peculiarità di individuali perché ogni squadra è composto da singole persone che devono essere sempre messe in primo piano no poi naturalmente si lavora in squadra in questo caso parliamo di manager che si formano che poi devono essere la loro volta bravi a essere leader perché poi un conto essere manager un conto essere leader nel guidare poi la squadra torniamo ancora all'altro al punto di partenza per far sì che magari appunto non attraverso la stessa lo stesso tipo di formazione in questo caso ma che anche i dipendenti collaboratori quindi le parti del team possano apprendere di conseguenza attraverso questa formazione insomma e poi arriviamo anche al discorso del talento che insomma abbiamo messo sul tavolo la scorsa puntata cioè che non basta solo il talento ma il talento deve essere allenato e quindi qua si sta parlando di coach tra poco peraltro avremo anche un coach che ci racconterà esperienze dirette quindi più di così abbiamo collegato veramente il tutto manuel no mi sembra stato molto interessante quello che ha detto il dottor lindo perché come ripeto il suo punto di vista è un punto di vista molto ampio è vero e di conseguenza si basa su un'esperienza importante che può essere utile anche per capire i trend che oggi le aziende devono seguire assolutamente quindi io saluto ringrazio valter lindo direttore fondir invito anche a chi ci segue invito anche chi ci segue a visionare insomma il sito e così almeno per prendere visione di tutto quello che proponete dei vari percorsi di formazione di cui ci parlava poco fa e mi auguro anche di poterne parlare al più presto con con lei magari anche noi prenderemo parte a qualche potremmo simulare un ultimo suggerimento si ci dica certo una ovviamente la pandemia ha spostato molto verso la fad e anche questa modalità di formazione si sta spostando verso nuovi sistemi la realtà virtuale ad esempio che sebbene ancora orientata verso soprattutto il creare delle situazioni simulare appunto delle situazioni penso a al public speaking no qualcuno che deve parlare di fronte al pubblico e non ce la fa beh anche la gamification sta sempre più orientando verso verso queste nuove modalità che tradotte nella formazione possono dare sicuramente degli vantaggi e degli effetti positivi in termini di crescita di competenze giusto ha fatto benissimo a fare questa aggiunta grazie a valter lindo direttore fondi e per essere stato con noi allora manuel diciamo andiamo subito alla prossima parte della nostra trasmissione dibattito non anticipiamo nulla però avremo un coach e chi ha prima fuori onda ho detto chi ha subito la formazione pensavo di aver usato una parola sbagliata invece valter mi ha detto non ho proprio subito però a questo punto lo chiederò diciamo chi ha goduto della formazione ho detto che subito è giusto guarda sono curiosa di sapere perché va bene poi noi ci rivediamo per la parte finale per le conclusioni allora diamo via al nostro dibattito ed eccoci pronti per il nostro dibattito io non aspetto altro che di mostrare a tutti voi insomma di presentare a tutti voi gli ospiti che parleranno con me perché dobbiamo andare nel merito della questione io inizio a salutare a presentare stefano selvini fondatore di capolider coach e facilitatore che in studio con me buongiorno a tutti stefano bentrovato e tra poco sarai tu a doverci indirizzare verso questa formazione attraverso il gioco e in collegamento l'altro diciamo l'altro l'altra parte della medaglia che ha subito insomma come dicevamo che esatto perché poi questa parola la riprenderemo subito massimo negro automation solutions division manager incas spa eccoci qui massimo grazie anche a te per essere con noi buongiorno e grazie dell'invito che ha partecipato a un percorso flickb tra febbraio e marzo 2021 quindi recentissimo e è colui che ha subito quindi allora stefano partiamo proprio da questo nel senso che uniamo anche il perché del gioco nella formazione che è il tema portante della puntata però ti chiedo subito ma chi fa formazione la subisce davvero è un termine corretto sì ecco diciamo che c'è un da parte del gioco c'è c'è sempre un discorso di contrapposizione di pregiudizio il gioco è sempre considerato una contrapposizione con il lavoro così come il divertimento quindi c'è un modo di vederlo insomma al di fuori dell'ambito lavorativo anche perché viene utilizzato ogni tanto questo discorso in modo spregiativo fare giochetti giocare con le emozioni delle persone in realtà il gioco è qualcosa che nell'ambito della formazione è molto importante è molto efficace e nella natura ci sono casi molto concreti di utilizzo del gioco per sviluppare le proprie capacità proprio perché il gioco ha quattro caratteristiche quattro elementi che contraddistinguono questa esperienza di apprendimento il primo elemento tutti i giochi hanno un obiettivo quindi un obiettivo spinge a sviluppare il focus quindi sviluppare l'attenzione per raggiungere l'obiettivo il secondo elemento è tutto sommato delle regole un sistema di regole le regole cosa fanno stimolano che cosa la creatività e il pensiero strategico quindi trovare soluzioni per aggirare le regole il terzo elemento è un sistema di feedback quindi che spinge e sviluppa la capacità di motivarsi e di capire se si sta andando nella direzione corretta l'ultimo elemento del gioco è la volontarietà tipicamente si gioca volontariamente e questa volontarietà spinge ad accettare obiettivi regole e sistema di feedback e creare un'esperienza piacevole tutto sommato da quello che si fa per arrivare poi a quella che è la vittoria ora dove in un gioco si deve vincere lo dicevamo anche in apertura di puntata e quindi se lo trasportiamo nel tema del business raggiungere gli obiettivi raggiungere gli obiettivi poco sugli obiettivi però in modo meno stressante di quello magari a cui siamo abituati noi attraverso il gioco cosa si creano si creano emozioni positive quando ci sono emozioni positive si sviluppa la ritenzione delle informazioni quindi se io sto apprendendo e provo delle emozioni positive tengo dentro di me leggo queste queste informazioni le tengo più facilmente a disposizione per essere utilizzate certo massimo tu senti di aver subito questa formazione questa una piccola domanda prima di farti quella portante diciamo ma diciamo in un po sì nel senso in modo molto positivo cioè sono stato conquistato da subire dall'approccio da e dalla modalità ecco quindi anch'io all'inizio immaginavo che giocare fosse una cosa interessante curiosa ma un po po da gioco un po da ragazzi in realtà devo dire che il subire questa questo gioco è stato entusiasmante ecco questo la tua considerazione a posteriori ma quando te l'hanno proposto no di utilizzare il gioco come formazione cosa hai pensato sincero ma sinceramente molta curiosità molta curiosità anche perché essendo abituati nel nostro mestiere a misurare sempre tutto siamo si è partiti ovviamente andando a misurare che cosa stava capitando quindi molta curiosità però anche molto interesse perché io il gioco credo il gioco fa parte della nostra vita e applicarlo alla propria diciamo alla propria professione alla propria crescita alla propria formazione per me era molto interessante certo ti chiedo subito altra domanda a Transciane poi andiamo oltre anche con Stefano ti è servita questa esperienza poi magari ci spieghi anche in che in quale punto del tuo lavoro principale principalmente ti è servita però ti è servita quindi è la promuovi come esperienza si direi proprio di sì è un'esperienza utile a livello personale anche a livello di gruppo perché abbiamo io ho fatto questa esperienza in azienda con con il gruppo con cui di altri manager o di altre di altre persone che lavorano nella nostra organizzazione e devo dire che a tutti e personalmente e come team è servito fare questa esperienza si parlava prima no anche Stefano di team però individui insomma un tutt'uno quindi credo che rientri in questo a questo proposito guarda la parola che mi sto sottolineando in questo momento è leadership ti chiedo in che modo il gioco è utile proprio nella nello sviluppo della leadership cioè affinché poi il leader possa portare la sua esperienza anche al resto del team noi facciamo tipicamente con il gioco dei programmi di sviluppo della leadership la peculiarità dell'apprendimento e dell'ammiglioramento della leadership sta nel fatto che non si impara tipicamente da un manuale o da un istruttore che mi dice cosa devo fare per per essere un leader efficace ma la leadership si impara sul campo ci sono tre elementi per diventare dei buoni leader primo elemento essere affrontare un ruolo il secondo elemento avere delle persone con quali relazionarsi e il terzo elemento avere situazioni complicate da risolvere è un po torniamo un po molto simile all'aspetto del sistema dell'aeronautica no un manager e un pilota sono molto simili da questo punto di vista perché tutte e due devono macinare ore di volo il pilota prendere esperienza come manager e però se non sono preparati e si mettono su un aereo o a dirigere un team hanno delle difficoltà e possono avere delle problematiche importanti importanti stiamo vedendo intanto ecco questa noi stiamo vedendo la fligby che è la leadership simulation come i piloti di aereo risolvono con il simulatore di volo e il manager può risolvere attraverso un simulatore di leadership che dà il ruolo quindi il partecipante viene messo nel ruolo di direttore generale di un'azienda della to rule winery una azienda vinicola della californiana viene dato un team virtuale con il quale e qua vediamo i membri del team col quale deve confrontarsi deve relazionarsi e vengono create delle situazioni complesse e ambigue nelle quale il partecipante deve prendere delle decisioni e quindi tutto sommato è un allenamento al prendere decisioni anche situazioni che magari non sono mai accadute assolutamente e che magari perché accadano ci vuole tanto tempo a livello di esperienza aziendale invece noi le facciamo succedere circa nei nostri progetti in una quarantina di giorni concentriamo tanta esperienza e l'esperienza crea apprendimento e crea competenza questo quindi essenzialmente è quello su cui si basa proprio la leadership la simulazione su affligghi no sì sì è fatto con un modo modalità di gioco perché si creano si fanno punti mettendo i propri collaboratori in certi tipi di situazioni e si si deve vincere fondamentalmente il premio finale che si saprà alla fine delle ventitré scene nel quale è composta la simulazione perché poi c'è anche un premio beh certo la motivazione perché assolutamente assolutamente è un po lo zuccherino che si dà dice fai bene assolutamente è una modalità molto coinvolgente però non si sa qual è il premio allora c'è un premio che il partecipante deve vincere che è il premio spirit of the wine che vuol dire che è ha raggiunto l'eccellenza con la propria azienda quindi insomma è una motivazione bella assolutamente subentra quello che dicevamo prima la parte di coinvolgimento la competizione anche giustamente sana e tra e tra vari partecipanti può essere io ho vinto tu no e quindi comincia esserci una sana competizione per dire per spingere per apprendere di più e quando si giocava all'asilo ho vinto io e la stessa cosa però è interessante perché effettivamente quando si i bambini si giocano tutto nasce spontaneamente quindi anche attraverso il gioco magari azzardo però che da te ci sono dei meccanismi che arrivano spontaneamente che non controlliamo noi ma che riescono a emergere quindi che ci rendono ancora più efficienti e preparati a risolvere tipicamente è lo stato di flow lo stato di flow è proprio uno stato psicofisico in cui siamo completamente coinvolti in quello che facciamo il gioco questo gioco nello specifico sviluppa e spinge lo stato di flow chiarissimo peraltro massimo appunto è ben detto che tu hai partecipato a un percorso a flick b tra febbraio e marzo 2021 ti chiedo com'è andata come esperienza che cosa hai riscontrato e anche cosa ti ha dato di più questo percorso rispetto a metodi considerati più tradizionali ma è stata un'esperienza veramente molto interessante perché il gaming immaginare di utilizzare il gioco per simulare delle situazioni della vita reale che servono a formare un manager nella capacità di capire le situazioni che ha di fronte a sé essere capace di interpretare di ascoltare correttamente le esigenze dei propri collaboratori individuare insieme con i propri collaboratori i percorsi le strategie condividerle essere empatici e soprattutto riuscire a mantenere diciamo il custodire la meta il custodire l'obiettivo finale utilizzando al meglio le proprie risorse le proprie capacità e le capacità delle persone che lavorano con te è un ideale però poi il trovare un modo come è stato con flick b concreto e pratico gradevole piacevole per poter applicare queste queste proprie esperienze io ho trovato molto efficace ho trovato efficace per due ragioni uno perché ci si trova di fronte veramente a situazioni complesse volutamente complesse volutamente conflittuali per cui bisogna prendere delle decisioni in base alle proprie esperienze in base alle agli input che si ha ma poi è molto importante quello che il gioco sottolinea con forza avere dei feedback da parte del gioco stesso che poi nella vita di tutti i giorni diventano i feedback che uno raccoglie dal mondo intorno a sé allora se si diventa ricettivi ci si abitua e il gioco questo lo lo sottolinea molto ci si abitua essere ricettivi allora ci si accorge che il conseguire risultati non è così complesso o così difficile ma è una conseguenza di piccole scelte di di mantenimento del flow quindi mantenimento di questo stato di 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 grazia di benessere per arrivare fino al risultato risultato finale essere ricettivi è fondamentale perché poi torniamo al discorso anche del talento che abbiamo affrontato in altre puntate di no haber cioè se il talento c'è ma non viene sviluppato e quindi non si rende sempre più possibile non ricevere input dall'esterno si ferma lì insomma l'allenamento serve sempre stefano prima proprio di salutarvi perché il flow è così importante se vogliamo proprio riassumere in ambito manageriale diciamo che il flow è la soluzione per portare per creare ambienti piacevoli coinvolgenti tutto sommato di felicità aziendale e coniugarli con prestazioni alte proprio perché il flow è quello stato che se i collaboratori provano costantemente permette di essere molto coinvolti permette di vivere bene di essere messi nelle condizioni di rendere al massimo e quindi di avere performance elevate anche numericamente e anche lato di produttività barra redditività quindi è come dire una cura particolare nelle risorse umane e anche di conseguenza nei numeri e nelle performance se per chi volesse avvicinarsi a questo tipo di formazione cosa consigli sì diciamo che noi abbiamo il nostro sito di capolider.com che è tutto sommato contiene un po delle informazioni sui nostri percorsi fligby diciamo che c'è la volontà di mettersi in gioco e di divertirsi ecco quello che è importante prenderlo come un divertimento un gioco però serio quindi divertimento serio quindi la nostra il nostro titolo recita quando giocare non è un gioco comunque parliamo di lavoro e però è anche sbagliato partire dal presupposto che quando si parla di gioco deve essere necessariamente qualcosa che distoglie l'attenzione dal lavoro dipende come per tutte le cose bisogna affidarsi a professionisti del settore che sanno cosa fare ma del resto insomma massimo sta confermando che funziona quindi ha fatto un po da testimoni al massimo sei l'influencer della situazione in questo momento no beh mi fa molto piacere poter dire che è così e devo dire che parte del risultato dipende anche da i coach che ti che ti aiutano a fare questa esperienza quindi noi siamo stati veramente molto contenti aver conosciuto stefano e la sua organizzazione perché sono molto preparati e hanno grandi esperienze quindi noi siamo stati molto contenti va bene insomma stefano ti contatterò al più presto anch'io mente iniziamo una partita infatti una partita esatto vedi infatti l'ho fatto assolutamente sì bisogna sperimentare sempre le cose visto che ne abbiamo parlato adesso che sono a conoscenza del tutto lo sperimenterò grazie stefano insomma chiudiamo con e che il flow sia con noi insomma assolutamente va bene esatto massimo è sul pezzo grazie massimo negro grazie per essere stato con noi per aver portato la tua esperienza grazie ancora stefano a presto allora a presto e adesso le conclusioni della puntata con me per le conclusioni manuel minati dobbiamo fare in fretta che devo andare subito a sperimentare subito a giocare il gioco hai sentito ma avevo dubbi assolutamente puntata interessantissima come tutte sì assolutamente sì però ogni volta è sempre più difficile essere interessanti guarda anche perché effettivamente tutte sono state interessanti ma parlare di gioco nel lavoro è davvero qualcosa che secondo me ancora dobbiamo metterci in te cioè non riusciamo in fondo in fondo ma in fondo in fondo sia tu che io stiamo ancora giocando non abbiamo ancora smesso di giocare nel nostro lavoro stiamo giocando però vedi noi ci insegnano ma ci insegnano non qualcuno in particolare però che quando si entra al lavoro si deve smettere di giocare che quando si inizia un percorso professionale è finito il tempo dello scherzo no c'è fortunatamente da questo punto di vista stiamo evolvendo anche a livello di manager a livello di tutti veramente bravissimo stefano veramente bravissimo anche massimo che ha portato la sua esperienza e quindi a questo punto guarda io non dimentico che tu nella puntata precedente non mi hai risposto alla domanda qual è il tuo talento ma te lo dico io qual è il tuo talento e questo è assolutamente un endorsement nei tuoi confronti ti ringrazio visto che ogni puntata manuel minati porta ospiti del calibro di stefano e massimo che abbiamo visto poco fa tu sei uno scopritore di talenti questo mi fa molto piacere vedi ci parliamo di formazione lo accetto volentieri molto volentieri grazie chiudiamo la puntata così ricordando però manuela prossima puntata che sarà il 24 giugno assolutamente sì sempre sulle fonti tv e poi lascio a te ricordare come seguire tutti i movimenti sì ecco anche su questa puntata gli approfondimenti li potete trovare nel gruppo linkedin noaber dove troverete chiaramente tutti i riferimenti rispetto a felipe rispetto a stefano e poi anche tutte le altre notizie che fanno riferimento al mondo della formazione va bene grazie manuel minati grazie a te grazie a tutti voi per averci seguiti prossimo appuntamento con noaber appunto il 24 giugno rimanete sulle fonti tv grazie a te grazie a tutti